Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White, siamo qui oggi con un nuovo episodio della nostra modalità MyCareer su M12K14, ci siamo trasferiti ai Washington Wizard, quindi questa è la prima partita che ho giocato con questa squadra, episodi un po' più corti del normale perché ne arriveranno maggiormente durante il corso delle prossime settimane, quindi ho preferito invece farli sui 7 minuti, farli sui 3 minuti e 40, 4 minuti a episodio. In ogni caso giocavamo contro i Toronto Raptors, io non partivo in quintetto ovviamente e non ho fatto una grandissima partita, soprattutto nei primi periodi, ho sofferto molto anche al tiro, non ho fatto un gran che soprattutto nel tiro da fuori, ho tirato con una percentuale bassissima, vedete lì in quel caso 33% però l'avevo dal campo, solo qualche schiacciata che mi avete chiesto tra l'altro nei messaggi, come fai a schiacciare tutte le volte? Molto semplice, il giocatore è alto 2,01 metri, quindi è molto alto e sopra la media per tutti i playmaker, quindi questo aiuta di certo. In più, schiacciata ho 90, non l'ho portato ancora 92 perché è semplicemente abbastanza inutile, quei due punti lì non mi servono particolarmente, poi costano parecchio, ho l'elevazione al massimo, ho alzato anche la schiacciata da fermo, ho messo tutte le abilità speciali tipo posterizzazione sprite, vero spettacolo, quindi tutte quelle caratteristiche ti fanno fare schiacciate particolari, le schiacciate di forza, quindi nelle situazioni in cui sono in uno contro uno spesso vado a schiacciare in testa all'avversario per dare un po' di spettacolo e per fare due punti facili. Se vi piace schiacciare vi consiglio di aumentare quindi quelle caratteristiche e mettervi quelle abilità speciali, in ogni caso il giocatore è abbastanza completo e riesce a fare più o meno tutto. La partita comunque sta andando verso la fine, non ho avuto grossi problemi a portarla a casa, soprattutto perché quando inizio a pressare la CPU come vediamo in questo caso riesco a fare praticamente tutto il campo da solo. Quindi prima che finisca il video e vi lascio alla scena finale con uno sponsor vi chiederò chi vince tra Milano e Siena? Siamo 2-2, le prime due a Milano abbastanza dominate dall'Olimpia, poi a Siena ha vinto nettamente la Montepaschi, non so domani c'è gara 5, scusate andrò a vederla e speriamo bene. Quindi con oggi abbiamo concluso, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale, noi ci vedremo presto, ciao a tutti! So check it out. It tastes great and it's got all the essential vitamins and minerals you need to get you through the day. And I would know man, because I'm jacked on it right now. Yo man, it's not bad. Yeah. Hey, and you know what? I actually feel like mega right now, you know what I'm saying? Tell me about it man. Well don't laugh, look, this stuff really works. So we just need somebody to come in and help finance the rest of our startup costs, you know, manufacturing, marketing, all that good stuff. All right, so check it out. What do you think? Can I count you in? You know what? Absolutely. Mega! Sweet! Mega! 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 All right, cool. Good deal. So listen, we'll keep you posted on the progress. I will finish up the paperwork, send it over to your agent tonight. Thanks again. You're doing a great thing. Yeah, sure. All right.